Ma scusa, la butto e l'anno prossimo ne compriamo una nuova. No, no, dai! Nel terreno non so se ci siamo ancora. Speriamo di più! Quindi non possiamo buttarla? No! Adesso però non sono andata a prendere il bastone, perché ci vuole un bastone per farla su. Sei sicuro? La dobbiamo tenere? Sì, petta, che adesso vado a prendere il bastone. Ce l'avevo il bastone. Guarda com'è sbagliato. Adesso voglio rifarla. Perché? Dammi a me sotto. Ottimo! Siamo stati bravi? Mica troppo, eh. Sicura che non vuoi buttarla? No! Ma perché urli così? La vicina è un po' pazza oggi. La vicina è un po' pazza oggi.